Amici 22, Iore abbandona la scuola sua volontà, fan spiazzati, nessuna spiegazione. Il day team ed i amici andato in onda venerdì 17 febbraio ha spiegato il perché dell'assenza di Iore nella gara di creatività alla quale hanno partecipato tutti gli allievi della scuola. Il cantante ha deciso di abbandonare il programma di sua spontanea volontà, prima che Rudy Zerbi emettesse un verdetto sulla sua possibile sostituzione con Mezcal. In serata, invece, trapeleranno le anticipazioni del 21esimo speciale del talent show, che potrebbe essere decisivo per i titolari che si giocano un posto al serale. Nell'attesa che trapelino tutte le anticipazioni sulla registrazione del 17 febbraio, il day team ha raccontato gli aggiornamenti provenienti dalla scuola. Come tanti fan avevano notato seguendo i day team, Iore è l'unico allievo a non aver partecipato alla gara di creatività che è valsa un premio speciale al ballerino e al cantante con maggiori apprezzamenti su TikTok. Chi pensava che la produzione avesse spoilerato involontariamente la sostituzione del giovane con Mezcal per volere di Rudy Zerbi? Si sbagliava, è stato il titolare della classe ad abbandonare il programma per motivi personali, che non sono stati resi noti. Dopo aver mostrato come sono stati preparati e realizzati i video con i quali i ragazzi di Amici hanno messo in mostra la loro creatività. Gli addetti ai lavori hanno svelato il verdetto che ha emesso il pubblico di TikTok. Il cantante che ha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni, e anche di mi piace, è stato Cricca, l'ultimo posto di questa classifica. Invece, è stato occupato dal nuovo arrivato Mezcal. Poco prima che terminasse il Daitime del 17 febbraio, è stato mandato in onda un brevissimo filmato col quale il pubblico è stato informato del forfè di Iore, la produzione si è limitata a dire che l'allievo ha abbandonato la scuola. Ma non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo. Il titolare del team Zerbi ha salutato tutti i compagni di classe e ha lasciato la casetta tra gli applausi dei presenti. Il pubblico si chiede cosa possa aver spinto Iore a ritirarsi dalla competizione quando manca poco all'inizio del serale. Iore lascia di sua volontà il programma, si legge sulle pagine Twitter che settimanalmente riportano le anticipazioni delle puntate di Amici. Molti fan sono rimasti spezzati dal poco spazio che è stato dedicato all'uscita del cantante del team Zerbi. Anche perché nell'ultima settimana è stato uno dei protagonisti più discussi a causa di una possibile sostituzione in arrivo. Ci hanno fatto vedere il suo addio in 30 secondi e senza dare una spiegazione. Ha commentato un altro spettatore piuttosto scettico. Il giovane che da circa sette giorni era sulla graticola per volere del suo professore, Rudy ha messo in discussione tutti i suoi allievi. Anticipando che Mezcal avrebbe preso il posto di uno di loro nello speciale successivo. Ma prima di conoscere il suo destino ha deciso di andarsene. Gli spoiler che trapeleranno sulla puntata che sarà trasmessa in tv domenica 19 febbraio. Però, potrebbero fare chiarezza sul perché Iore non sia più nel cast e soprattutto per quale motivo ha scelto di abbandonare. Inoltre potrebbero essere assegnate nuove maglie per il serale, che andrebbero ad aggiungersi a quelle di Isobel e Ramon. Grazie a tutti.